Colto sul fatto mentre ruba Rigutino, in seguito a diverse segnalazioni per furti in abitazione nel comune di Arezzo, con particolare riferimento proprio alla zona compresa tra Arezzo e Castiglion Fiorentino, i carabinieri della compagnia di Arezzo hanno messo in campo un'azione di controllo del territorio rafforzata soprattutto nell'arco orario serale e notturno. Durante questi controlli è stato trovato un uomo che dopo essersi introdotto furtivamente all'interno di una scuderia nelle pertinenze dell'abitazione di un giovane località nocetella, frugava e aveva accumulato all'esterno della stessa scuderia vari attrezzi da lavoro con l'intento di portarli via. Il proprietario, accortosi della presenza dell'uomo, ha informato subito i carabinieri che hanno inviato sul posto una pattuglia del radiomobile che essendo nelle vicinanze in servizio perlustrativo, anche in virtù di un dispositivo organizzato e studiato per far fronte alla specifica esigenza, è arrivata sul posto. Ha recuperato la rifurtiva del valore di circa 2000 euro. L'uomo è stato arrestato. L'arresto è stato convalidato mentre per lui è scattato l'obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne e di presentazione ogni giorno al comando dei carabinieri di Arezzo. Una prima forte risposta all'ondata di furti che ha caratterizzato l'intera estate nella zona.